Musica Continuiamo a cercarle le buone notizie anche in questo buio, anche in questi giorni drammatici perché davvero, come ci ricordava un vescovo di pace, Don Tonino Bello, dobbiamo sempre credere e sperare che davvero una risposta diversa possa esserci a tutto questo male che guardiamo e ci guardiamo e vediamo intorno a noi. Allora, mi fa piacere darvi questa notizia che ci parla di pace, raccontarvi questa storia che ci parla di pace, ci parla di bambini e il messaggio arriva sempre più forte quando è velicolato da loro. Allora, il gruppo Alcuni nel 2000 con la regia di Sergio Manfio in collaborazione con le scuole associate dell'UNESCO e la RAI ha dato vita a una serie di cartoon, 26 cartoons dal titolo Cartoon for Peace. Ovviamente il titolo già ci fa capire di cosa si tratta, ma ce lo spiega meglio proprio il regista Sergio Manfio in collegamento per noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, visto che la pace non ha tempo e che continuiamo ad invocarla e in questi giorni ovviamente più che mai, avete pensato di riproporre questa serie di cartoni animati, di brevi corti sul tema della pace prodotta appunto nel 2000 e l'avete resa disponibile adesso. La cosa interessante è che sono cartoni animati, sono storyboard che nascono proprio da disegni di pace di bambini di tutto il mondo. Sì, come dici giustamente, noi abbiamo raccolto ancora parecchi anni fa, con l'aiuto delle scuole associate dell'UNESCO, abbiamo raccolto delle storie, degli storyboard come dicevi, disegnati dai bambini proprio sui temi della pace, non pace esclusivamente come mancanza di guerra, ma anche come situazione che si trova a creare nei momenti in cui nascono dei contrasti, quindi pace nello sport e mille cose che si possono ovviamente immaginare. Abbiamo cercato di fare questi cartoni animati rispettando in maniera assolutamente precisa quelle che erano le indicazioni grafiche dei ragazzi, per cui nella visione di questi 26 corti che abbiamo realizzato indicativamente della durata di un paio di minuti, si vedono proprio le grafie in modo diverso di interpretare anche da un punto di vista grafico, quindi interessante anche da questo punto di vista vedere come i bambini di un paese disegnano molto spesso in maniera diversa rispetto a bambini di altri paesi, quindi questa diversità che comunque li ha uniti in questo racconto su come sarebbe molto meglio vivere in mancanza di conflitti e di guerre come purtroppo in questo momento stiamo vivendo. Esatto, tra l'altro mi fa piacere anche pensare che adesso tanti bambini che magari ci stanno seguendo forse a quest'ora sono a scuola giustamente, ma le loro mamme danno anche un volto a chi disegna e realizza i cartoni animati per i loro bimbi. Ne cito uno su tutti che penso sia quello più conosciuto, cuccioli, che tutti i bambini aspettano questo appuntamento di questo cartone animato. Voi come gruppo alcuni tra l'altro vi caratterizzate anche per l'idea di veicolare sempre attraverso i vostri cartoni anche dei messaggi importanti per questi piccoli che poi saranno i ragazzi del futuro, è anche uno strumento, no? Beh, guarda, questo è un aspetto fondamentale del nostro lavoro. Siamo ovviamente inseriti nel mondo della comunicazione, quindi dobbiamo tener conto di alcune regole che ci sono, di problemi collegati se volete all'ascolto, però abbiamo sempre cercato, da quando abbiamo cominciato, di portare all'interno dei nostri cartoni animati alcuni valori che sono facilmente riconducibili, per esempio alla mancanza di violenza, il fatto che i problemi si possano risolvere indipendentemente appunto da un'azione violenta, il fatto che ci sia tra loro solidarietà, l'aspetto della collaborazione, quindi il fatto che della collaborazione e della creatività in modo che i bambini possano, attraverso questi cartoni animati che chiaramente rispondono anche a un aspetto di divertimento, perché chiaramente questo è anche il nostro compito, però facendo in modo che attraverso questi cartoni animati che presentiamo ci siano dei messaggi precisi che vadano proprio in direzione della mancanza di violenza, non occorre essere violenti per risolvere un problema, a volte basta essere solamente un po' più attenti, solidari e perché no anche creativi. Tra i cartoni animati che citavi tu c'è anche un'ultima nostra produzione che è quella di Leo da Vinci, dove in realtà la creatività di questo genio italiano fa sì che le cose possano essere tranquillamente risolte utilizzando la testa, non occorre usare la forza, basta essere solo a volte un po' più intelligenti e più creativi per far sì che certe cose non accadano. Ricordiamo intanto che è possibile vedere questi cartoni anche sulla vostra pagina Facebook, c'è appunto una playlist dedicata e anche attraverso il canale YouTube, la TV degli alberi parlanti. È interessante che voi avete messo anche a disposizione questo materiale per le scuole, insomma per chi vuole appunto scuole e famiglie aiutare in questo modo i più piccoli a comprendere l'importanza della pace tra i popoli, no? Assolutamente, noi l'abbiamo messo a disposizione per quanto riguarda l'Italia sui nostri canali YouTube, ma abbiamo una notizia che tra poco riandranno in onda nella RAI, e abbiamo dato la disponibilità gratuita dei cartoni animati a tutte le emittenti nel mondo con cui siamo in contatto e anche a quelle che non acquistano i nostri cartoni animati. Vi ricordo che noi siamo presenti in più di 100 paesi nel mondo, quindi abbiamo cercato in qualche modo di rendere disponibili questa emissione a titolo assolutamente gratuito, perché ci sembra, in relazione a quanto si diceva prima, che sia un buon segno, come dite voi, per trovare una buona azione ogni giorno, per far sì che le persone non abbiano questo senso di depressione che in questo momento potrebbe in qualche modo colpirle. Ecco, questo è quello che cerchiamo di fare e vi ringraziamo anche per il vostro invito, perché è un modo assolutamente interessante per veicolare queste buone azioni, di cui si parla poco spesso, perché chiaramente, come si sa, una bomba fa molto più rumore di qualsiasi altra cosa bella. Facciamo anche un altro racconto, continuiamo a provare a farlo, soprattutto in questi tempi davvero di sofferenza, di dolore e di morte, quindi ci fa piacere aver raccontato di questa iniziativa, perché la pace non è soltanto, lo ripetiamo sempre, non è soltanto un concetto astratto, non è un'utopia, ma davvero è possibile coltivarla e raggiungerla, e soprattutto partendo dai più piccoli, anche attraverso queste iniziative che aiutano ad educare proprio, a un ragionamento di pace. Grazie a Sergio Manfio, regista del gruppo Alcuni, per essere stato con noi, per averci raccontato di questa iniziativa. Grazie a voi e ricordatevi che quando volete siamo sempre disponibili per queste cose. Grazie mille, buon lavoro e buone cose.